benvenuti a tutti amici del canale in un nuovo video oggi facciamo un video su una novità che diciamo sta spopolando su internet che viene venduto online questo cinebasto che ora poi andremo a vedere sul computer non so magari funziona veramente per quello che si dice perché alcuni l'hanno testato e dicono che magari funziona e riscalda un ambiente anche di 70 80 metri quadrati questo non lo so con certezza infatti ho voluto fare questo video magari per sapere se qualcuno di voi ce l'ha lo possiede l'ha usato l'ha visto in funzione proprio diciamo con i suoi occhi per vedere veramente se è rumoroso perché penso che magari rumoroso perché poi c'è un tubo di scarico andiamo a vedere che deve essere messo verso l'esterno perché altrimenti il gas di scarico che perché va a diesel questo cinebasto con un carburante diesel per poter riscaldare perché c'è una camera interna che c'è una combustione però non è una vera e propria combustione in un motore diesel a scoppio ma è una camera a parte che fa questa combustione e quindi la ventola al suo interno poi attraverso un dissipatore fa passare il calore e lo lo immette diciamo nel nostro condotto tubo dove abbiamo fatto la canalizzazione oppure se l'abbiamo installato così per come ci arriva senza alcun dubbo magari dalla bocchetta dove esce l'aria calda lo lasciamo uscire così però lo scarico che diciamo come una tra virgolette una marmitta deve essere posizionato all'esterno perché il gas bruciando questo diesel rilascia questi gas di scarico quindi devono essere convogliati verso l'esterno c'è un aspirazione è uno scarico ovviamente è l'unica cosa che deve essere portata verso l'esterno è lo scarico e diciamo che si deve fare qualche se deve essere messo lui all'interno però il fattore se è rumoroso la ventola non so perché c'è una pompa anche per che fa dal serbatoio che c'ha lui all'interno il il diesel lo fa andare nella camera di combustione quindi c'è una pompa che magari può essere rumorosa o una ventola che se lo facciamo andare ai massimi reggini può essere rumorosa non lo so infatti volevo fare questo video se magari a voi qualcuno interessa non so magari con contattiamo qualche azienda e se voi fate salire questo video di visualizzazioni e abbiamo un'entrata magari da poterlo acquistare oppure mi informo se qualche azienda lo manda per testarlo lo testiamo proprio lo apriamo anche vediamo un po come è fatto al suo interno vedete voi se mi date una mano magari a fare questo video a farlo diciamo diventare virgolette virale e con magari l'incasso del video con le vostre visualizzazioni a voi non costa niente possiamo acquistarlo oppure qualche azienda magari lo vuole proporre me lo invia magari che poi lo vuole indietro magari dopo averlo testato 15 giorni un mese non lo so e poi quello è da concordare però se vuoi mi date una mano magari lo portiamo sul canale lo testiamo insieme per me è un piacere farlo vedere anche a voi e lo vedo io stesso che non lo conosco anche di presenza quindi ragazzi se vi interessa mettete like condividete fate girare questo video più possibile da in modo da incrementare le visualizzazioni e così casomai lo portiamo sul canale lo apriamo lo vediamo insieme proprio nel dettaglio non solo nel funzionamento vediamo come è composto vedete un po voi ora lo vediamo insieme qua sui vari portali di vendita dove viene venduto e a che prezzo magari e vediamo un po proprio come dove lo vendono e come il prezzo che diciamo che per adesso ha sul mercato perché magari non so forse ultimamente è salito di prezzo perché magari si vede l'interesse che che c'è nell'acquisto e alcuni comprano alla marca il vevor tipo questo qui che dicono che magari è un ottimo prodotto però non vi so dire più di tanto i prezzi del vevor sono magari più più alti qui siamo su amazon quindi poi c'è questo qui che è un 5 kilowatt perché come ho capito vanno dai 5 ai 8 kilowatt dipende è l'ambiente che dobbiamo riscaldare se ad esempio guardiamo non so magari uno un po più conveniente vediamo questo qui perché hanno un piccolo schermo e un telecomando per comandarlo a distanza questo siamo sui 145 99 su amazon sempre parliamo come vedete c'è un display si può programmare con l'orario per l'accensione spegnimento funziona con 12 volts che noi possiamo collegare una batteria 12 volts perché questi veramente nascono sono progettati per camper camion magari furgoni perché hanno la 12 volts funzionano con una corrente di con la tensione di 12 volts quindi magari lo possiamo collegare o una batteria e funziona comunque anche se stacchiamo la luce di casa oppure con la luce di casa però attraverso un alimentatore di corrente continua cioè da alternata continua 12 forse e può funzionare in questo in questo modo anche infatti quali diciamo e loro è progettato questa cosa per camion autobus barca camper perché ovviamente magari in un camper si può usare più facilmente di una casa però adesso ultimamente ho visto che lo stanno adottando alcuni anche nelle abitazioni però vi ripeto non sono sicuro 100 per cento della sua effettiva efficienza funzionalità comunque qui su amazon lo vediamo a 145 euro e 99 vediamo qua su ebay su ebay c'è questo qui diciamo non c'è tanta scelta su ebay però c'è questo modello qui un 12 volts sempre 5 kilowatt a 149 euro e 90 non so magari conviene su amazon perché magari c'è un problema lo possiamo fare il resto in modo più più facile non lo so vediamo un po e comunque ragazzi io quello che vi ripeto è se siete d'accordo magari fate e girare il video facciamolo aumentare come visualizzazioni in modo da tramite le pubblicità avere un'entrata e vediamo se lo possiamo acquistare o farcelo magari mandare da qualche azienda se è disposta ad inviarcelo per testarlo vederlo un po come tutto ha i componenti all'interno lo vediamo sempre insieme a voi facciamo un bel video non so sta a voi se aiutate in questo progetto possiamo realizzarlo magari magari non subito tra qualche mese però magari si potrebbe realizzare perché no farebbe piacere ma no perché è un perché capita che l'azienda non è che magari me lo regala però magari lo vuole indietro oppure lo acquistiamo direttamente se arriviamo in un budget di con visualizzazioni tramite il video e diciamo se riusciamo anche a portarlo sul canale come ho detto o tramite qualche azienda oppure si deve acquistare quindi ragazzi questi sono diciamo i modelli se giriamo sono quasi tutti uguali funzionamento è quello poi cambia qualcosa sul display sulla carcassa e queste qui come si vede qua sono diciamo la marmitta il tubo di scarico aspirazione e vari raccordi per fissare la marmitta il filtro qui si vede anche un telecomando qua fanno vedere questo il serbatoio per il diesel qui fanno vedere un ingresso aria e un'uscita fumi che ovviamente i fumi dobbiamo portare all'esterno perché attenzione non abitazione sono tossici infatti voglio capire vedere quello se non ci sono perdite e quant'altro per poterlo mettere in una casa e stare sicuri quello comunque questo è un display che per i con le varie funzioni che ha il questo cine basto si chiama non si chiama così non so perché ma viene chiamato così comunque ragazzi ha una potenza qua di 5 kg watt voltaggio 12 volt carburante gasolio temperatura di lavoro meno 40 più 80 consumo di carburante 0 1 0 24 litri sarà allora penso perché penso le misure sono 40 il lato più lungo 37 altezza e 17 lo spessore quindi non è tanto ingombrante comunque ragazzi sta a voi se mi aiutate nel video a farlo girare magari con tante visualizzazioni lasciamo il like lo portiamo sul canale e vediamo un po che si può fare intanto magari contatto qualcuno vediamo un po se qualcuno è disposto a portarlo sul canale lo testiamo e lo vediamo insieme grazie ragazzi e ci vediamo alla prossima una buona salata